Ciao dal Maui! Ti voglio portare un po' con me in questa strana giornata calda di dicembre. Ho portato anche uno dei registratori che uso per l'audio quando faccio i corsi, perché voglio farti sentire una delle cose più rilassanti che c'è qui nella zona dove vivo. Questa tranquillità. È qui che ho fatto molti dei miei corsi, è qui che ho fatto molti dei miei set, è sempre qui che mi rilasso. E ogni tanto mi va di portarti all'interno di questa situazione, sperando di trasmetterti lo stesso mood. Ti faccio i più cari auguri di buone feste, ti ringrazio per avermi seguito all'interno del percorso didattico, che tu sia appassionato di fotografia, di fotoritocco oppure di intelligenza artificiale. Io sono contento che tu trovi il modo, tramite i miei corsi, di esprimere la tua arte e anche di essere un po' più felice nella tua vita. Quindi ti auguro di essere sempre più creativo, ti auguro un 2024 pieno di soddisfazioni personali e artistiche e ti ringrazio ancora una volta per avermi seguito durante tutti questi anni, sia sui miei canali social, c'è il nuovo canale YouTube che ti invito a visitare e a seguire perché sarà sempre più pieno di contenuti gratuiti, sia sul sito icorsidelmaui.it dove siete diventati veramente tanti, e anche e soprattutto all'interno del gruppo di supporto Facebook Chiedilo al Maui, una community di persone che apprezzo veramente tanto. Grazie ancora e a presto. Ciao dal Maui.